Io mi chiamo Santo Sciuto e vengo dalla Sicilia, professionista, sono un apicultore, ho un'azienda in Sicilia, ho 600 famiglie e mi occupo della produzione di miele, l'orto di nonna Lucia. Il nome deriva da mia nonna che non c'è più, che mi ha lasciato in eredità le sue api e io ho continuato la sua attività fino ad oggi. Io allevo l'ape licustica e l'ape sicula, che è l'ape tipica nostra siciliana. Allora, sono due tipi di api diverse. L'ape siciliana ovviamente è più adatta alla produzione del nostro territorio perché sopporta maggiormente le temperature della Sicilia. In questo momento stiamo vedendo che resista anche più i parassiti e le escursioni termiche che ci sono durante i vari mesi. Ad esempio quest'anno abbiamo avuto delle temperature molto più alte rispetto agli anni passati e l'ape sicula abbiamo visto che lo sopporta meglio e riesce a produrre anche di più in condizioni avverse. Diciamo che non è andata benissimo perché abbiamo avuto qualche mese molto piovoso, soprattutto maggio e giugno, che di solito sono mesi di raccolto. E gli ultimi mesi di produzione, che è il mese di agosto e settembre, sono stati mesi molto caldi. Quindi diciamo che il cambiamento climatico ha un pochettino compromesso quello che è la produzione. Io sono Andrea Poli, siamo la Zucchero EC, siamo un'azienda di Firenze e produciamo prodotti di alimentazione per api, candito, sciroppi, tutta una serie di prodotti legati all'alimentazione per apicoltura. È un prodotto italiano, è un prodotto difficile da trovare, è un prodotto che soddisfa esattamente quelle che sono le esigenze di noi apicoltori e soprattutto dei nostri avveari. È fatto un prodotto realizzato con zucchero 100% italiano, abbiamo fatto una collaborazione con Italia Zuccheri, che è l'unico zuccherificio poi rimasto in Italia. Come diceva il nostro cliente, è un prodotto unico, siamo gli unici a fare un prodotto realizzato in Italia e fatto con zucchero 100% italiano. Può rivolgersi a noi tramite il nostro sito www.zuccheric.it e lì trovo tutti i contatti per poi contattarci e noi saremo disponibili a fare le nostre votazioni. Grazie. Ciao a tutti abicoltori siciliani.